Sono Camilla Brunelli, la direttrice del Museo della Deportazione e Resistenza di Prato. A noi viene molto naturale parlare di resistenza e festeggiare la liberazione il 25 aprile, perché siamo impegnati da anni ad occuparci e a trasmettere a giovani e meno giovani la realtà dei crimini del nazifascismo, perché di gravissimi crimini contro l'umanità si è trattato e la liberazione dai regimi che li hanno perpetrati deve essere per prima cosa compresa nel profondo, rivissuta con gioia e degnamente festeggiata ogni anno, anche in quest'anno così particolare. Tra i tanti crimini nazifascisti commessi in Italia come incarcerazioni, eccidi, stragi con torture, impiccagioni, fucilazioni e altre forme di violenza estrema, al Museo conserviamo in particolare la memoria dei crimini commessi nei confronti delle vittime, dei campi di concentramento e di sterminio e come vittime intendo sia i morti che i sopravvissuti. A loro è stato dedicato nel 2000 con legge dello Stato il giorno della memoria, istituito, così recita la legge, il ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti e ricorre nel giorno dell'apertura dei cancelli di Auschwitz, il 27 gennaio. La legge mette insieme soggetti diversi della deportazione, lo fa per onorare tutte le vittime italiane di deportazione e di internamento nei lagri nazisti degli anni 43-45, si parla assieme di popolo ebraico, di deportati militari e politici, ma questo intento di per sé giusto ha generato confusione, come possiamo vedere nei servizi dei media, ma non solo. Vengono accostate vicende che hanno sì aspetti in comune, ma necessitano di essere distinte e comprese ognuna per la sua specificità. Inoltre, la storia dei deportati politici e degli internati militari spesso viene trascurata, soccombe sotto l'enormità della persecuzione, dello sterminio del popolo ebraico. Bisogna quindi distinguere la deportazione razziale, oggi prevale piuttosto il termine razzista, dalla deportazione politica e dall'internamento militare di ufficiali e soldati disarmati dopo l'8 settembre del 43 e deportati in Germania in campi di internamento. La memoria di queste vicende e sofferenze umane deve essere salvaguardata, e non solo perché ce lo chiede la legge sul giorno della memoria, ma le motivazioni alla base delle diverse deportazioni devono essere conosciute e approfondite nei loro aspetti particolari. Ci serve capirle per una comprensione del fenomeno che vada oltre la dovuta commemorazione delle vittime. Bisogna conoscere autori, scopi e meccanismi che portarono allora a una delle più disastrose tragedie del Novecento, resa possibile dal contesto della Seconda Guerra Mondiale. Il sistema dei campi di concentramento gestiti dalle SS germaniche era stato costruito fin dalla presa del potere del partito nazionalsocialista nazista, e cioè nel 1933, un sistema diffuso e capillare in cui i nazisti concentrarono gli oppositori del regime dapprima gli stessi connazionali, quindi ebrei tedeschi entrati nel merino dopo le leggi di Nuremberg del 35 e la Notte dei Cristalli del 38. Non siamo ancora alla cosiddetta soluzione finale della questione ebraica. Poi vi entrarono vittime della cosiddetta igiene sociale, come i poveri e gli emarginati dalla società, poi i cosiddetti zingari, cioè rom e sinti, nei confronti dei quali in seguito i nazisti attuarono un genocidio con almeno 500.000 vittime, nonché i testimoni di Geova e gli omosessuali. I primi però ad essere uccisi in modo sistematico furono dal 1939 i disabili considerati bocche inutili secondo il programma Eutanasia del nazismo. Fu dopo l'inizio della Seconda Guerra Mondiale e in particolare dal 41-42 che si andò oltre. Le Einsatzgruppen della Wehrmacht, i gruppi d'assalto, attuarono le fucilazioni di massa degli ebrei dell'est europeo. La guerra diventò guerra di annientamento. I campi di concentramento e di sterminio si moltiplicarono e diventarono luoghi di sfruttamento, di tortura ed eliminazione per milioni di esseri umani. Dalle zone occupate dai nazisti furono deportati, oltre agli ebrei, gli oppositori politici, partigiani, resistenti ma anche persone qualsiasi, rastrellate ovunque e particolare furia omicida fu usata verso i prigionieri di guerra sovietici. Si attuò lo sterminio sistematico degli ebrei d'Europa nelle camere a gas, soprattutto ad Auschwitz-Birkenau, un crimine epocale conosciuto come Shoah che costò 6 milioni di vittime. I prigionieri dei lager, classificati e registrati dalle SS con precisione parossistica, secondo varie categorie tra cui spiccavano per numero proprio i politici di molte nazionalità, morirono a centinaia di migliaia per fame, malattie, stenti e uccisioni arbitrarie dopo esser stati costretti a lavorare come schiavi per l'economia di guerra, nelle aziende delle SS per le grandi industrie private del capitalismo tedesco in campi come Auschwitz, Dachau, Mauthausen, Buchenwald e migliaia di altri campi e sottocampi meno noti. Il quadro è complesso e i vari progetti del nazifascismo fossero essi di carattere politico e geopolitico, economico, sociale, di sfruttamento schiavistico o di carattere genocidario volti a instaurare l'uomo nuovo e un nuovo ordine europeo dominato dalla razza ariana devono essere considerati con attenzione. Ma alla fine si arrivò a circa 10 milioni di morti nei concentrazioni slaga in soli 12 anni. Ma torniamo alla deportazione dall'Italia di cui parla la legge sul giorno della memoria. Quando vengono divorati da questo inferno i nostri deportati? La deportazione ebbe inizio dopo il rovesciamento delle alleanze, dopo l'armestizio con gli alleati annunciato l'8 settembre del 43, la susseguente occupazione tedesca dell'Italia centro-settentrionale e la costituzione della Repubblica Sociale Italiana. A quell'epoca il numero degli ebrei che vivevano in Italia ammontava circa 40.000 persone. Con l'annuncio della firma dell'armestizio la Germania si trasformò da paese amico e alleato in paese nemico e occupante. Da quel momento gli ebrei e italiani fino ad allora preservati dalla deportazione nei lager nazisti in quanto cittadini di uno stato alleato caddero sotto il regime di politica di sterminio messo in atto dalla Germania nazista. Sulla base di una nuova legislazione anti-ebraica dopo quella del 38, il governo della RSI il 30 novembre del 1943 decretò l'arresto di tutti gli ebrei il loro concentramento in campi provinciali provvisorio e il sequestro dei loro beni. Circa 7.000 tra ebrei italiani ed ebrei stranieri rifugiati in Italia furono arrestati dai tedeschi e dai collaborazionisti della RSI finendo prevalentemente ad Auschwitz. La maggioranza, soprattutto anziani, donne e bambini avviata subito all'arrivo alle camere a gas altri considerati abili al lavoro selezionati per il lavoro schiavo. Ed è nell'ambito dello sfruttamento del lavoro schiavo che si intrecciano i destini degli ebrei selezionati per il lavoro definiti cinicamente Arbeitsjuden e dei deportati politici perché quando arrivano gli ebrei italiani a partire dall'autunno del 43 non vengono più uccisi tutti subito come accadeva agli ebrei d'Europa fino al marzo del 42 anche le loro braccia come quelle dei politici servono per l'economia di guerra della Germania nazista una guerra che non vede più i tedeschi come dominatori ma che i nazisti vogliono ancora vincere. il lavoro non fu comunque per nessuno garanzia di sopravvivenza. Ricordiamo che vi furono ebrei come primo levi e non pochi presi inizialmente come politici per le loro attività resistenziali. Tra gli ebrei italiani deportati furono in pochissimi a sopravvivere appena il 12%. Tra i deportati politici sopravvive circa il 40%. Ma vediamo più nel dettaglio cosa si intende per deportazione politica dall'Italia. Le misure adottate dai nazifascisti per contrastare le attività partigiane e di partigiani resistenti variavano da detenzioni nelle carceri fucilazioni sul posto e appunto la deportazione nei lager delle SS i peggiori dell'intero universo concentrazionario nazista. Vi finiscono oppositori e partigiani di varia provenienza politica e migliaia di scioperanti arrestati dai militi della Repubblica Sociale Italiana in seguito allo sciopero generale dai primi di marzo del 44. Tra loro anche lavoratori innocui per il regime che non avevano fino ad allora partecipato a forme di resistenza. A questi vanno aggiunti uomini e donne considerati a vario titolo riottosi o pericolosi chi rifiutava l'arrollamento per il lavoro coatto chi veniva sospettato di aver aiutato ebrei o partigiani oltre a detenuti in carceri italiane consegnati da salò e tedeschi e classificati come criminali abituali. furono circa 25.000 persone quindi a essere deportate dall'Italia nei lager tra il 43 e il 45 per motivi politici. Vi giunsero nell'ultima fase di esistenza dei campi quella in cui prevalse appunto lo sfruttamento produttivo del lavoro schiavo dei deportati a favore dell'industria bellica tedesca che stritolò centinaia di migliaia di vite umane. I più noti in cui finirono i politici italiani uomini e donne furono Dachau, Mauthausen, Buchenwald, Ravensburg, il lager delle donne e Flossenburg. La dimensione della deportazione politica dall'Italia è documentata da un'importante ricerca promossa dall'ANED e coordinata dagli storici Tranfaglia e Mantelli dell'Università di Torino in collaborazione con molte istituzioni come la nostra che hanno dato un contributo alla pubblicazione del libro dei deportati con migliaia di nomi, dati enagrafici, brevi biografie e saggi storici pubblicato da Mursia in quattro volumi dal 2009 al 2015. Un aspetto da tenere sempre presente emerso anche dalla suddetta ricerca di carattere nazionale è come già accennato il livello di collaborazione con cui le strutture della RSI hanno fortemente contribuito a mettere in atto tutte le fasi repressive che dagli arresti ai vari internamenti in Italia portarono infine alla deportazione di ebrei e politici nei campi di concentramento e di sterminio d'oltrealpe. Quindi gli italiani non sono esenti come abbiamo visto rispetto al compimento di uno dei maggiori crimini contro l'umanità del Novecento. Sappiamo anche naturalmente degli aiuti dei salvataggi e dei tanti gesti di eroismo quotidiano nel nostro paese. Infatti l'Italia è a pieno titolo sia paese delle vittime che dei carnefici. Resta da chiedersi però perché le vicende di 25.000 italiani deportati per motivi politici nel lager delle SES dove sono morti a migliaia siano cadute nel dimenticatoio. Pochissimo se ne parla in occasione del giorno della memoria la cui legge istitutiva pur li nomina e assai poco questa categoria di assassinati nei lager è presente nella memoria collettiva. Pare trattasi di vera e propria rimozione. Bisognerà indagarne le cause. Tra i diportati politici moltissimi gli operai ma anche contadini e artigiani e architetti tra cui alcuni molto famosi intellettuali studiosi di molte discipline studenti universitari medici avvocati amministratori locali imprenditori sportivi religiosi tra loro esponenti di rilievo e semplici militanti dei vari partiti politici antifascisti comunisti socialisti azionisti anarchici repubblicani cattolici e liberali che operavano in clandestinità. Quando leggiamo le loro biografie comprendiamo immediatamente che soprattutto Mauthausen dove finivano gli incorreggibili come li chiamavano i nazisti è stata la tomba della migliore gioventù antifascista e antinazista europea ed anche italiana che avrebbe potuto contribuire in modo notevole alla ricostruzione dopo aver contribuito fino al sacrificio della vita alla resistenza armata e civile non solo il 27 gennaio del giorno della memoria quindi ma anche il 25 aprile nel giorno della liberazione ci corre l'obbligo di ricordare come resistenti anche i deportati politici italiani e ricordiamolo in quel giorno felice del 1945 quando in Italia si festeggiava nei campi più occidentali come per esempio a Mauthausen che fu liberato solo il 5 maggio i nostri connazionali morivano ancora a centinaia a Mauthausen 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 Grazie.